Una sola farmacia in centro storico privata è per giunta molto spesso chiusa il sabato, argomento che sta a cuore alla cittadinanza ma anche ai numerosi turisti che hanno affollato il centro d'estate ai quali la problematica non è passata inosservata, argomento che sarà affrontato in una prossima seduta di commissione consigliare grazie al consigliere Paolo Romano dopo il rinvio di oggi, ma l'argomento è strategico, la pianta organica delle farmacie viene aggiornata ogni due anni così da intercettare i bisogni, la pianificazione del comune invece è ferma al 2016, dopo il 2009 le sei farmacie private che c'erano si sono delocalizzate non sono più tornate. Chiediamo più servizi, il centro storico è un centro storico esteticamente bellissimo che comincia a essere fruito in maniera seria ma mancano i servizi essenziali, ecco le farmacie sono servizi essenziali, prima del sisma ce n'erano sei, oggi ce n'è solo una, se si vuole puntare al rilancio dei servizi del centro storico, ecco dobbiamo cominciare a pianificarli. Io dalla passata consigliatura ho chiesto alla giunta di legiferare, di deliberare in tal senso, ma la giunta ancora non riesce neanche a misurarsi con l'opposizione. C'era una commissione all'inizio, si era convocata una commissione all'inizio della consigliatura, fatto sta che stiamo a fine 2023 e questa commissione ancora non si riesce a svolgere. Speriamo che siamo arrivati a questo punto di incontro e speriamo che la giunta comunale e l'assessore De Santis voglia misurarsi realmente con noi. Il centro storico necessita di servizi essenziali, prima del sisma era il cuore pulsante dei servizi della città dell'Aquila, oggi non lo è più. Ecco questo va recuperato e credo che una buona amministrazione debba fare proprio questo. Grazie a tutti.